Buongiorno a tutti, un buongiorno a tutti i relatori, grazie per aver accettato questo invito per discutere della valutazione del sistema di istruzione, grazie a tutti voi che siete qui e un benvenuto a nome della Camera dei Deputati e soprattutto del Movimento 5 Stelle e del nostro gruppo. L'obiettivo di questa giornata va sempre nella direzione che abbiamo cercato di tenere in tutti questi anni nella discussione di grandi temi che coinvolgono la nostra società e il nostro Paese, che è quello della condivisione. Soprattutto su temi come questo, l'obiettivo di una forza politica come la nostra, che oggi è accreditata come la prima forza politica del Paese, ma in generale che ambisce a governare questo Paese, deve essere quello di dare una posizione chiara ma soprattutto condivisa sul sistema di istruzione italiano. Abbiamo un bruttissimo vizio in Italia, prima si fanno le leggi, si scrivono, poi si approvano e poi si discutono con i diretti interessati, i quali rilevano una serie di criticità e poi quelle criticità diventano dei disegni di legge che quasi mai vengono approvati. Quindi alla fine resta sempre il primo, quello che non è mai stato discusso. O che è stato discusso a volte con solo coloro che dicevano sì, quelli che dicevano no o che consigliavano dei cambiamenti sono sempre stati o esclusi o solo sentiti. Perché si sente tanto, si ascolta poco, soprattutto in un momento in cui si fanno due, ogni due giorni e mezzo una nuova legge che si aggiunge alle 25.000 di rango primario già esistenti nel nostro ordinamento, con questo ritmo di produzione legislativa la condivisione, l'ascolto se ne vanno a farsi benedire per utilizzare un eufemismo. Noi vogliamo cercare di mettere al centro del dibattito oggi questo ecosistema delicatissimo che è il mondo dell'istruzione. È un ecosistema molto delicato su cui tanti governi e tanti leader politici si sono giocati la loro carriera o il loro futuro politico proprio perché lo avevano sottovalutato. Hanno sempre cercato di entrare a gamba tesa in questo mondo senza mai valutarne la complessità e la delicatezza. Io vengo da una famiglia di insegnanti, mia madre è insegnante ma anche tutti i suoi cugini, fratelli, insomma, io sono cresciuto in una famiglia di insegnanti e ognuno aveva sempre un'idea differente della scuola. Quando si facevano i pranzi di Natale o i pranzi di Pasqua, tutti quanti intorno al tavolo, nessuno aveva la stessa idea di come cambiare la scuola perché ognuno veniva da esperienze differenti, con relazioni differenti con gli studenti e soprattutto da istituti differenti. Ogni realtà di questa ha delle sue peculiarità e delle sue particolari caratteristiche che vanno sempre prese in considerazione quando si riforma il mondo dell'istruzione. E forse anche la legge intesa come tale è uno strumento che è troppo limitante rispetto all'intervento che si deve andare a fare. Per questo noi prima ancora di parlare di leggi parliamo di metterci in regola con quelli che sono gli investimenti dal punto di vista del nostro Paese rispetto a tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea in questo settore. Siamo fanalino di coda, dobbiamo arrivare almeno alla media europea che è il 10%, almeno, siamo oggi super giù al 7% e dobbiamo prima di tutto trattare questo tema con sincerità. Sincerità significa che quando si dice abbiamo aumentato le risorse per la scuola, dobbiamo, uno, non prendere in giro questo mondo. Significa che quando dici che hai stanziato più risorse per fare nuove assunzioni e quelle risorse le hai prese sempre dal mondo della scuola, da un'altra parte, non stai stanziando più risorse, stai solo tirando la stessa coperta da un'altra parte e continuando a produrre un meccanismo per il quale togli da una parte, metti dall'altra e si scatenano soltanto ulteriori distorsioni in questo mondo. Questo è un obiettivo, metterci almeno in linea con la media europea. Ma più in generale, io vorrei in questa conclusione, in questa parte conclusiva del mio intervento, mettere l'accento sull'insegnamento. Cioè non c'è solo da mettere al centro della nostra società la scuola, l'istruzione o l'università e la ricerca, ma l'insegnamento. È un valore fondamentale in un momento in cui la nostra società, come mai prima, sta cambiando a velocità della luce. Abbiamo di fronte dei cambiamenti epocali che nei prossimi 7-8 anni trasformeranno il 60% del nostro lavoro. Il lavoro come lo conosciamo e le forme professionali come le conosciamo, nei prossimi 7-8 anni si trasformerà per il 60%. Significa che chi oggi si sta iscrivendo, per esempio, agli istituti superiori o all'università, potrebbe ritrovarsi, alla fine del suo percorso di studi, in un mondo totalmente differente da quello in cui siamo oggi. Io non voglio banalmente collegare l'insegnamento scolastico al mondo del lavoro, perché non è questo. Ma la scuola oggi, l'istruzione in generale, l'insegnamento, ci deve dare prima di tutto i valori e gli strumenti per affrontare questo cambiamento epocale, che è prima di tutto una funzione legata all'essere umano, alla sua capacità di potersi adattare a dei cambiamenti così repentini. Non c'è una situazione tragica. Noi abbiamo fatto uno studio molto attento per tre anni su quelle che saranno le forme di lavoro che cambieranno nel 2025. Ebbene, oggi abbiamo un terzo dei lavori operai, un terzo dei lavori dipendenti e un terzo dei lavori creativi. Nel 2025 in Italia oltre il 50% dei lavori diventerà lavoro creativo. La Cina attrarrà tutte le grandi industrie, diventerà la più grande fabbrica del mondo. L'India è il più grande ufficio del mondo. Quindi noi andiamo verso un mondo del lavoro che si basa sulla creatività. Questa creatività dov'è che deve essere coltivata, se non durante l'insegnamento scolastico? La capacità di potersi adattare e di poter accettare l'idea che i lavori che hanno fatti i nostri padri e i nostri nonni, a cui noi abbiamo sempre guardato come un modello di riferimento, scompariranno. Il fatto solo di accettare questa cosa deve fornirci degli strumenti per poterla affrontare. E questi strumenti non possono che venire dal mondo scolastico, non possono che venire dal mondo dell'istruzione. Rimettere al centro della nostra società l'insegnamento significa rimettere anche al centro della nostra società la critica, a cui ormai tutti quanti noi siamo sempre più impermeabili, ma che dobbiamo imparare sempre di più ad accettare. Perché è dalla cultura, dalla creatività, dall'insegnamento, dall'istruzione che nascono anche le capacità di mettere in dubbio o di criticare una posizione, di mettere in dubbio lo status quo in cui viviamo oggi. Mettere in dubbio o criticare lo status quo è sempre una cosa a cui la politica deve abituarsi, perché deve fare sempre uno sforzo in più per pensare di non essere tuttologa. Io in questi anni ho capito una cosa, che i bravi politici non sono quelli che credono di sapere tutto, perché quelli che credono di sapere tutto non ascoltano e poi fanno guai. L'abbiamo visto con la buona scuola, ma l'abbiamo visto con tanti altri interventi. Oggi la sfida della politica è prima di tutto saper ascoltare, saper recepire le istanze, avere la capacità, questo sì, e la professionalità per fare sintesi di queste istanze. E fare sintesi in un mondo come il vostro è senz'altro un'ambizione che abbiamo e dobbiamo farlo prima di tutto ascoltando, come oggi. Per questo ringrazio tutti i relatori che ci daranno un contributo importante. E l'obiettivo nostro ovviamente è quello di creare un programma di governo chiaro e condiviso prima delle elezioni, in modo tale che ci si possa chiarire anche di fronte agli elettori prima e non avere sorprese dopo. Sappiamo sempre che quando si entra poi e si diventa governo sia in un comune sia in un paese come l'Italia, ti ritrovi davanti delle difficoltà che magari non avevi previsto. Io mi sono occupato dei nostri sindaci tanti anni, arrivi nel comune, avevi letto tutti i bilanci, avevi studiato, sapevi che era tutto così e poi magari esce fuori un falso in bilancio o un buco di bilancio che quello di prima aveva nascosto con tutta la macchina amministrativa complice che non l'aveva mai fatto uscire. E questa roba qui ti cambia la possibilità di agire sulle politiche pubbliche che volevi realizzare. Ma alla fine è sempre una questione di priorità. E le priorità bisogna chiarirle prima, in modo tale che quando ci si presenta poi come per la sfida di governo, per governare questo paese, si mettano le cose in chiaro con i cittadini e soprattutto con gli operatori del settore. Quindi io vi faccio i miei migliori auguri di buon lavoro per questa giornata. mi dispiace se dovrò allontanarmi ma ho un alibi, devo presiedere l'aula alle 10, come ogni venerdì ci sono le interpellanze urgenti. E spero che questo sia solo uno dei tanti momenti di confronto su questo tema, ma soprattutto che il confronto produca dei risultati concreti. Non lo dico a voi ma lo dico a noi, nel senso che quello che porterete oggi come contributo noi abbiamo il dovere di recepirlo, altrimenti momenti come questi perderanno di credibilità e diventeranno solo dei momenti per parlare tra di noi senza nessuna concretezza. Ma sono sicuro che questo non avverrà. Grazie mille.